Francesco Maggi, portiere del Vasto Girardi, in una finale dei playoff, ironia della sorta, incontri una squadra che comunque ha fatto parte del tuo passato, crediamo un passato piacevole, poi sei stato anche decisivo, forse sull'unica occasione che ha avuto l'isenna hai dato una mano ai tuoi compagni per portare a casa questa vittoria. Quello è il mio dovere, per quello che sto qua, quindi rientravo dal lungo infortunio che mi ha tenuto fuori per 40 giorni, penso di averlo fatto in maniera tutto sommato positiva, poi per quanto riguarda il passato è stato un passato piacevole, l'ho sempre detto e basta. Ecco abbiamo visto comunque un Vasto Girardi Maturo che l'ha sbloccata alla prima vera occasione, complice anche forse a un po' di fortuna, poi nel primo tempo ha avuto le sue occasioni per dilagare nella ripresa, ha amministrato il risultato. Sì, queste sono partite che poi alla fine ne decisano gli episodi, alcune volte ci sono andati contro, l'importante è aver portato questa finale a casa e ora ci andiamo a fare questi playoff nazionali nella maniera più serena possibile. Rappresenterete il Molise nella fase nazionale, sia tu che i tuoi compagni, comunque offrirete il vostro contributo a prescindere poi da quale sia l'avversario? Sì, ora indipendentemente dall'avversario ci giocheremo le nostre carte, perché comunque siamo una squadra valida, l'abbiamo dimostrato per tutto il campionato, compresa la finale del Coppa Italia e compresa questa finale qua che oggi abbiamo fortunatamente vinto. Indipendentemente dall'avversario noi ci giocheremo le nostre carte e daremo battaglia su qualunque campo.